ciao a tutti ragazzi da william lego tyler guardate questo praticamente un porta uova che andate bene a dipingerlo perché domani sarà già pasqua quindi dipingerò le uova con i pennelli voi praticamente questo qua lo potete anche piegare e metterlo in taschino potete inventarvi voi poi se volete mandatevi un vostro video di una invenzione di un nuovo porta uova e mi dite proprio come si usa guardate praticamente aspettate ecco che lui vi porta l'uovo e voi proprio potete colorare come volete ciao da william lego tyler